Ancora buon pomeriggio, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico rallentato sulla 1, siamo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, la direzione è quella per Bologna. Rimaniamo in A1 tra Sasso Marconi e Aglio, chilometro 255, personale su strada in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, verso Livorno. Veniamo ai traghetti, quello da Piombino a Portoferraio, con partenza prevista alle 16.40, è stato annullato per le avverse condizioni meteorologiche. Prudenza per il vento su strada e autostrade della nostra regione, moderare la velocità in caso di forte vento, fare una sosta se ci si trova alla guida di un auto o di un motoveicolo, le raffiche più intense tendono a far sbandare appunto il veicolo. Ed è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e a più tardi. Grazie a tutti.